In un mondo che sembra un po' troppo costruito, fatto d'immagine, abbiamo cercato di riesaltare la spontaneità e il difetto. Quindi senza trucchi, senza inganni, essere maleducati forse è la risposta all'apatia totale che l'immagine ci sta suggerendo ultimamente e per questo abbiamo aperto questa facoltà di scienza della modificazione. Siamo in un mondo che è un po' di scienza, non è un po' di scienza, non è un po' di scienza. Mi cazzo, mi cazzo, tutto quello che faccio lo faccio per amore. Mi cazzo, mi cazzo, tutto quello che faccio io lo faccio per amore. Sherwood comunque si conosce in tutto il mondo, voi siete, vi fate più provinciali di quello che in realtà siete ma forse è falsa modestia secondo me, è decisamente falsa modestia perché in giro si conosce Sherwood, la gente sa di Sherwood. It's time to be maleducati, assolutamente. Adesso come non mai. Adesso come non mai. Diciamo che in Italia forse al momento il live suonato è meno richiesto, almeno mediamente parlando. All'estero anche se non sei conosciuto la gente è magari più curiosa, magari sotto certi punti di vista porta più soddisfazione. Poi è chiaro che ci sono situazioni come queste che ti fanno riprendere la speranza. però quello diciamo è la maggiore differenza che ho percepito tra l'estero e l'Italia. Oh margherita, margherita, oh margherita, margherita, oh margherita, oh margherita, margherita,... la cosa che l'Italia ha di diverso dall'estero è che qua la discografia, ha un impatto molto più pesante sulla musica mentre all'estero il live rimane comunque la cosa più interessante quindi in Italia secondo me per quest'anno sono usciti tantissimi dischi molto belli secondo me, cioè io sto ascoltando tanta musica in Italia adesso però il live ne risente un pochino perché certi gruppi che ho sentito un po' dal vivo erano una cosa nel disco e dal vivo no? mentre all'estero continua a regnare il chitarrone, la batteria, le voci fatte bene, cantare bene eccetera eccetera e quindi questa è la differenza che troviamo tanto in tutto ciò Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!